vai vai orchè era un mucotello che ho figliato lukkash segna vai 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 ok di Lorenzo deve fare la dieta di Lorenzo deve fare la dieta eh ti è piaciuto si deve regalò un porto compagno ovviamente passiamo a risposta si capito? si stanno col passeggio si è tagliato il capito quando si è tagliato quando si è tagliato si è tagliato solo ucranie avviva avviva dice fai giù la cuscia di milioni che l'ha il bdc ma fai qua fai qua la cacchella in salato e c'è perle senza l'icolo avivore io ho passato 12 minuti a piedi i papi io trovo metà che non hanno pagato la palloncella da Rachmanino ho sti guard ma questo ho sti guardi ma lo vedo con i piedi il suo cuore e io vedo come ci sono misi in bellezza da piedi ma però ah raga poi nell'estate voglio migliare non lo faccio ma questo eh oh se appena riesci a trovare qualcuno tra lì riesci a creare qualcosa più piccolo vieni 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 quando mi avevi due presse e movivano ma mamma mia la partita spumeggiante prima non ho perduto la partita mamma mia ma lì mi attaccava però mi chiamassi la mamma da bocce pari pari sti guardi sti guardi cioè veramente ragazzi allora contro la roma cioè contro la roma cioè contro la torme stracciati immediatamente fuma rinzell ca una gran palla per Luca Murato in seconda chance Samartic a giro palla fuori prima occasione della partita al trentaquattresimo ce l'ha avuta la salsa quattresimo hanno cercato di dialogare i due esterni eeeh osticato stai guanno con Ludinez i di che verità sta giocando con Ludinez avrebbero dovuto chiamargli i compagni non si è affidato al nato il brasiliano si casano ma no ma no ma no ma no c'è gli attaccanti gli stoccare si è davvero si casano ma no non si è avuto l'esercito non si è avuto l'esercito l'esercito e l'esercito 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 e l'esercito si è designato o che hanno annullato o che non hai cresciuto e non hai cresciuto l'esercito esattamente come fece l'esercito 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 ci ha fatto un barcaone una ma tu dico no ma no ma no ma no ma no attenzione se non facciamo 0 2 3 punti non ci portiamo perché io sappiamo no 3 palla che ho buttato in dall'aria ricorda mi chiamma gola aspettate il tempo è già avanti fuori è zero ma no 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 adesso per lui dai ah 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 assolutamente non precisa per la distanza ma 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 babbouini infatti viene confermato anche il fuori gioco l'avete sentito anche che è scattato non lo so 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 chi è migliore in campo? si migliore in campo sei le croniche ma tu hai visto i centrocampisti secondo me tu non hai visto un zitano non hai visto una platinia non hai visto un ricosto non hai visto un loto armatteuso non hai visto un junior non hai visto un veron non hai visto a trotto la mia sua mamma stai ignorando i comuni muni 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 attenzioon 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 morbido su christensen di testa rimette per davis inserisce success 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 la mossa di carnavano success sation lì ah mamma lì i sation non vediamo davis bravo in questo caso al secondo palo queste sta salta palo success grande stop e subito la mette il secondo palo ottimo soprattutto quando la rosa dopo più di un anno sul l'ans l'ans e non ci vediamo tutto bu è arrivato in silenzio buono 1 a 1 dell'Udinese guerra cresciuta e mi trovi che dice la festa, festa, festa con sto a metterla no, attenzione ha tirato la tappanissima che portando solo il cartone una pantona che delusione che siete che delusione a subire il fallo da Cristian se ne mette il cordo il risultato è lo stesso dell'anno scorso ma stavolta non vuol dire Scudetto per il Napoli che torna a fermarsi continua a fermarsi lo fa prendendo gol a 92 giallo di Ozyman arriva quello di success e finisce così in parità tra Udinese e Napoli reggiospot e torniamo ti lascio a voi commenti perché io voglio farlo basso non so più perché ora c'è c'è una c'è non lo so io dico sempre lo stesso sono costretto a dire sempre lo stesso perché io posso dicere una mezza ora la partita non è fannuta la partita non è fannuta e io con la mente che la mezza azione hanno fatto che si cagli hanno fatto gol non è fannuta allora io non lascio io ho sempre la mia idea non la cambierò mai vabbè ma voi partite voi parigiate partite e partite volendo un po' perché non c'è stata una spiegazione non è che una squadra che può buttare sotto la casa pure ha dipenduto una fede ma si deve raccontare e partite io non tengo niente io non lo so io già parlavo forza così perché non la direi non la tengo non c'è cosa una squadra che vince la campionata ogni pallina di rigore prende gola una squadra che già sta in serie B eppure in serie C io non lo so quando stasera c'è più una primavera basta che non ci faccia tu ho pensato io non tengo niente ricerata a me io tengo l'idea mia che chi si gioca contro il presidente per affrontarlo ci hanno riuscito noi ci stiamo a fare un anno fegato riuscito se si detenite a palla ditelo battite sti man ne sbattite se mi sbattessi andate a cosa disertate lo stadio disertate lo stadio disertate sabato lo stadio non ciate non ciate sentite a me finiamo per un lo rafforno la canina finiamo la co barbagiano con la speranza che la scessa ne va ok ciao ciao